guarda che sforzi che fa Luca oggi qua devi fare un po' di sollevamento pesi bimbo piano 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 babbo piano alzala un po' di più la canna ce la farai a tirarla fuori? speriamo se non scappa il piccolo sanpei qua piano giri sempre dai chi è la canna? dai piano 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 dai piano poi vai a chattare chissà che c'è gente contro non è che abbiamo fatto una sala mamma prendi qualcosa e dai pepe pepe così pepe va a chattare con le russe e le romeni dai a pepe con il computer piano a me queste robe mi piace per niente qualcuno prendi un attimo oh te li prendi un attimo stai cagando piano 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 che questa piano piano che mezza lontà piano piano te lo dite poca ah guarda che può essere anche grande eh torna indietro ogni tanto se tira forte